Da due giorni i loro nomi sono sull'albo pretorio online del comune di Andrea nella sezione pubblicazioni di matrimonio, fra quelli di altre 14 coppie andresi prossime alle nozze. Scamarcio Riccardo Dario e Golino Valeria, tranese di nascita lui, napoletana lei, hanno deciso di fare il grande passo e di farlo proprio ad Andrea, città di residenza dell'attore. 35 anni lui, 50, splendidamente portati lei, si sposeranno a breve. Top secret la data e il luogo dell'evento, anche se Scamarcio è stato visto nei giorni scorsi a Palazzo di Città, pare per fissare la data della cerimonia e il luogo del banchetto, nel cui menù c'è da scommetterci, non potrà mancare la burrata andrese. Ai festeggiamenti parteciperà il jet set del cinema italiano. Riccardo Scamarcio e Valeria Golino fanno coppia fissa da otto anni. Nel 2008 hanno dato vita alla casa di produzione Buena Onda. Hanno pure comprato e ristrutturato casa nella bella Polignano Mare, non certo una capanna, una masseria del 700 su due piani, con otto stanze e due stalle, dove pare si fermino spesso. Scamarcio è legatissimo alla sua terra ed anche per questo ha scelto Andrea come teatro del suo giorno più importante. Grazie.